Prosegue la rassegna Z Generation, il teatro incontra le nuove generazioni, di officine della cultura in collaborazione con la Libera Accademia del Teatro. Al Pietro Aretino è andato in scena lo spettacolo È bello vivere liberi di Marta Cuscuna, che ne è autrice e interprete. La visione è stata preceduta da un incontro laboratorio con la stessa attrice e autrice. I temi toccati da questi eventi hanno esplicitato vari argomenti di attualità che stimolano la sensibilità dei giovani e del mondo della cultura. Si va dalle donne della resistenza all'omosessualità, dal femminismo alla violenza sulle donne, in giorni in cui il dibattito di queste tematiche viene incentivato anche dalla cronaca nei suoi vari aspetti. Io sarei dell'idea che forse per risolvere veramente il problema sarebbe utile lavorare con gli uomini e fare in modo che scelgano di non diventare uomini abusanti, uomini maltrattanti e quindi capovolgere il problema e ragionare su una società che porta determinati stereotipi non solo nei confronti delle donne ma anche nei confronti degli uomini e chiederci se questa società che è indubbiamente sbilanciata al maschile e quindi favorisce gli uomini sia effettivamente il modello di società che permettere agli uomini di essere uomini felici. Di cominciare a parlare di liberazione sociale e di pensare noi prima di tutti che la nostra personalità non ha niente a che vedere con il sesso e con la razza. E ora che la battaglia per i diritti delle donne diventi parte integrante della lotta per costruire una società più giusta e quindi tutti, uomini ma anche noi, noi donne, dobbiamo combattere per riscattarci da quello che subiamo sotto il fascismo. E' bello vivere liberi è stato il primo lavoro che ho scritto e interpretato in forma autonoma e l'amore a prima vista è stata la storia di Ondina Peteani questa prima considerata da alcuni storici la prima staffetta partigiana d'Italia perché ha aderito alla resistenza giovanissima, aveva appena 17 anni e in qualche modo ha collaborato con il movimento di resistenza nella Venezia Giulia dove in qualche modo la resistenza è cominciata molto presto rispetto al resto del paese. Marta Coscurà fa un bel ragionamento sulle donne partigiane, sulla resistenza siamo vicini a tutti gli argomenti civili. Il nostro cartellone parte dal tema della donna, farsi fuori, la difficoltà di essere madre parte dal disagio giovanile, i borghi sempre più in disagio verso il mondo dei ragazzi più giovani e poi abbiamo continuato anche con uno spettacolo che parla dei giovani che si avvicinano ai classici come Virginia Woolf, quindi siamo contenti di poter affrontare questi temi perché sono anche il nostro pane quotidiano come Officine della Cultura.